Musica Buongiorno a tutti Andrò a rilasciare quelle texture pack vecchie Che vi avevo fatto vedere che vi erano piaciute tante Che volevate perché anche quelli nostalgici Tutte queste cose varie Comunque ho deciso di risudividerle in episodi Quindi questo sarà il primo episodio in cui rilascerò Due texture pack vecchie Poi ci sarà il secondo dove rilascerò le altre due E poi ci saranno altri due In cui rilascerò le nuove versioni di quelle texture pack Quindi supportate questi video Al massimo Supportate questo video al massimo Raggiungiamo almeno minimo 150 like Se non li volete pure sovrare ma affidatevi Raggiungiamoli perché mi fareste tanto tanto felice Perché mi chiedevate queste texture pack Io subito a darvele così che ero tanto felice anche io Quindi passiamo subito alla prima La prima texture pack di oggi È una texture pack un po' vecchiotta Quindi voi dovete contare che tutte le cose Che vedrete oggi Tutte queste texture pack sono un po' vecchiotte Non vuol dire che non siano fighe Perché comunque sono fighe Però essendo un po' vecchiotte Se ci stanno un po' di cose che non sono il massimo Dovete capirlo Questo sarebbe fatto un bel po' di tempo fa Comunque queste sono le spade Erano carine Anche adesso non è che mi dispiace Per i più fidati Vi sono molto molto comode Però non è che siano il massimo Ecco Guardiamola da questo punto di vista Comunque vi faccio vedere un po' L'hotbar Qui c'era la vecchissima skin Tutte queste bellissime cose Giusto i cuori Che sono quelli sotto Il cibo Poi con questa cosa qui Che era troppo figa Con la faccia che switchavo Mi piace un casino Di qua invece abbiamo Alciarino Rod Arco Enderperle Cavole varie Grazie mille di paggarmi Questo è l'arco Comunque è carino Non mi ricordo Da che texture pack L'avevo preso E poi l'avevo rieditato Poi abbiamo la Rod Anche questa carina L'alciarino E poi l'enderperla Che l'avevo sicuramente Scopiazzata Perché non l'ho fatto Io me lo ricordo Questi vabbè Questi poi ve li vedete Questo si beve Questo si lancia Quello di esperienza Non c'è Accontentato Prendetemi sulla parola Questa poi è la Gapple Mentre questa è la mela normale L'altra Gapple Non so dove sia finita Vabbè Amen È scomparsa per sempre Questa è la Gapple Mentre si mangia Quindi facciamo tutti i professionali Faccio vedere anche quando si mangia Questi sono tutti gli altri cibi Che l'ho lasciato in default Qui ho messo questi rappetini A caso Giusto per mettere qualcosa Di carino di pavimento Questi sono i blocchi Quanto è carino La Wonder Star che gira Le forbici che si aprono Qui fa le scintille Ti ho visto prima Eccola Oh che carini Questi si illuminano pure qui Fa tutti gli effetti Sugli or Veramente veramente carini Ah Queste Queste mi piacciono un casino Sono troppo fighe questi Veramente sono tanto 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 carini E poi Poi queste sono le armature Poi di qua cosa abbiamo Qua abbiamo tutti i blocchi Abbiamo i vari blocchi Di qua poi abbiamo Il mega villager Giusto per far vedere le particelle Che manco mi ricordo adesso Le particelle come erano E con una B Volevete capire no? Spero che comunque alla fine vi piacciono Queste texture pack Però dovete capire una cosa Che erano Essendo fatte tanto tempo fa La maggior parte di esse Erano fatte Non c'è il bottone Perché non c'è il bottone? Perché non c'è il bottone? La maggior parte di esse Erano fatte Veramente Tanto tanto Dove sta il bottone? Ok Perché non ci sono gli zombie? Ok Questa mappa è più baccata Di non so cosa Però beh le armature Le avete visto là Non c'avete il bisogno Di vederle Ed è qua Andiamo e ci stanno Il custom sky Che giustamente Il custom sky Giusto la luna Perché A quei tempi Non sapevo manco cosa fosse Il custom sky Torniamo indietro E questa era la prima Questa è la seconda texture pack Che è la rainbow pvp Sempre però Questa la misi a pagamento Da un po' fa Perché ci impiega Tanto 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 tempo Però se lo sto vedendo Non dal punto di vista Dei blocchi Perché la maggior parte Del blocchi Sanno in default E non capisco Perché non capisco Cosa mi abbia fatto fare La mia mente malata Che li ha messi in default Tutte queste robe Vabbè voi non dovete Vi dare spiegazioni Sono di tanto tempo Qui non schizzate Meglio non di cosa Così messo a caso Poi abbiamo qui Le spade Le spade ci stanno Anche doppie versioni Troverete dentro la cartella Questa è un'altra versione Delle spade Che comunque Anche l'altra Forse sono più carine Non lo so Questa che è Quella di diamante Quella in oro Quella in Ahaha Avete capito Quella in oro Quella perché ho detto Tutte in oro Sono carine Le spade Sono decenti Pensando che comunque Era tanto tanto tempo fa Si possono vedere Sono guardabili L'ender perle Figuratevi se l'ho fatta io L'arco Carino l'arco Carino Belli 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 Quanto tempo Ci avevo messo mia Mamma mia Nabbo all'estremo Con tanto tempo Impiegato per fare Perché tutto qua È sempre nero Perché perché Certo un po' di blocchi Li potevo mettere Li potevo impegnare un attimo Per fare blocchi Così quando si beve Se volete vedere Mentre uno beve Perché è interessante A quanto pare Qui tutte le robe Che possiamo pure buttare Il cibo La Gapple Guardate che figa Sta Gapple Che non è una Gapple Ma sono Se ricordano tipo Li smarties Dai sono troppo rozzi Un fulmine A caso Ok Qui le armature Oh mio dio Quanto erano belle Queste queste texture Mi piace Poi non è Cioè dovrebbe essere Tipo 512 per Bella 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 Le forbici Quanto è figa Quanto può essere figa Andiamo dal nostro amico Villager Queste sono Le bellissime Particelle Tutta Totalmente Inutili Il custom skies Guardate Manco c'è spero Il custom skies Non penso ci sia Day Che poi c'è la pioggia Grazie mille Della pioggia Questo è il giorno Non c'è il custom skies Questa è la notte Non c'è il custom sky C'è giusto la runa Ma che novità E queste Queste erano Le texture pack Di oggi Se vi dovete essere Se è piaciuto Trovate il download In descrizione Ditemi cosa ne pensate Senza essere troppo duri Perché comunque Erano texture pack Di più di un anno fa Quindi non vi arrabbiate Ci vediamo domani Con un prossimo video Supportatemi Perché il prossimo Video di questa mini Cosa Il prossimo appuntamento Con questa tipologia Di video Saranno le altre Dexter pack Tra i del pack È tutto Bella